Questo canale contiene le mie personali opinioni, se non siete in grado di farvi una risultata Si sente che c'è? Qui n'era una casa buona Però devastante Infiona E' una personaencita E' una casa buona Stupennato Mettete like al video se vi è piaciuto Comentate sotto nei commenti Seguitemi anche su Instagram Sul canale Telegram Milla dinara dello Europa Pensi di non guardare il video buonasera ragazzi bentornati a un nuovo video del piedinario dello svapo questa sera vi farò vedere una nuova pod che a mio avviso è mega interessante tra l'altro ce l'ho in anteprima ovvero sono stato estratto come primo in Italia o forse addirittura in Europa a provare e fare la recensione di questo nuovo prodotto vi faccio subito vedere qual è, è questo qua vaporezzo target 80 watt vi dico subito due informazioni molto interessanti allora è la prima pod mode sub ohm che arriva fino a 80 watt utilizza un nuovo tipo di resistenze che hanno lanciato proprio con questa pod mode qui che sono le GXT da 0,2 e 0,3 ohm a mesh e devo dire che se sono come le altre l'aroma sicuramente è ottimo all'interno monta l'axon chip e ha una risposta al fuoco ovvero tast fire fuoco di 0,001 secondi praticamente è istantaneo e questa qui è un'altra cosa molto interessante diciamo che per chi parla di macchine non ha il lag nonostante ha 2000 mAh di batteria integrata è veramente compatta ma poi l'andremo a vedere fra pochissimi secondi l'ultima cosa che vi devo dire è che dentro questa scatola qua non ci sarà tutto quello che sarà nella versione finale perché questo qui è un'anteprima che hanno mandato soltanto a me quindi voi avrete una pod mode, due tank e due resistenze di ricambio e dentro tutti quanti i vari incartamenti che devono esserci obbligatoriamente per legge ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a vedere cosa c'è dentro la nostra scatola ecco qua dentro la nostra scatola ovviamente questa qui è una scatola soltanto per me abbiamo la nostra pod e io ho quattro resistenze di ricambio ma nella versione finale ci sarà la pod con un tank un tank di ricambio e due resistenze di ricambio e qua sotto abbiamo un cavetto usb quelli sbaroni della Vaporesso e un libretto delle istruzioni andiamo adesso a vedere le resistenze questa qui è una GXT da 0,2 ohm a mesh è una mesh a maglia abbastanza larga è a maglia larga anche questa che è sempre una GXT ma da 0,3 ohm allora questa qui va utilizzata da 32 a 45 watt mentre questa qua va utilizzata da 45 a 60 watt ora io proverò quella da 0,2 ohm perché è quella che mi incuriosisce di più andiamo adesso a vedere la nostra pod allora è una pod che esteticamente è veramente molto molto bella qui è similcarbonio ma similcarbonio al tatto sembra quasi è una plastica che ricorda la pelle con la trama del carbonio qua sotto abbiamo l'usb per la ricarica vaporezzo target PM80 qua sotto abbiamo le informazioni solite e ci ricorda che la batteria è da 2000 mAh andiamo a togliere tirando il nostro tank questo qua è l'interno della nostra pod dove abbiamo i nostri contatti e questo qua è il nostro tank la capienza è di 4 ml all'interno qui si infilerà la nostra coil mentre da qua sotto noi andiamo a ricaricarla adesso attiverò la coil basta bagnare il cotone finché non vediamo che diventa più scuro qua di fianco ed è sufficiente andiamo ad inserire la coil all'interno basta spingere a pressione finché non sentite che è arrivato in fondo è molto semplice dopodiché andiamo a riempire il nostro tank dal foro che è qua sotto una volta riempito andiamo a tappare e lo andiamo a montare qua sopra basta appoggiarlo e lui con un magnete va imbattuta 5 clic per accendere vaporesso ecco vediamo che il circuito è molto figo il circuito è l'Axon chip quello lo stesso della Gen ci dà un casino di informazioni ora l'ho già impostata a 45 watt siamo in modalità vari watt ma possiamo andare in tutte quante le modalità che ha anche la Gen ovvero il chip Axon che a mio parere funziona veramente da dio con il tasto più e meno andiamo a cambiare i nostri watt tenendo premuto tutti e due andiamo in questo sottomenu e possiamo scorrere fra tutte quante le modalità smart vari watt vari watt vari volt contatore delle svappate ci fa cambiare anche i colori fra verde, blu e rosa adesso vi metterò un rosa molto sobrio che è questo qua e niente adesso andiamo a provarla allora innanzitutto si sente che l'aroma è incredibilmente buono io qui dentro sto svappando il nuovo liquido di Galactica questo qua il double cream sono con la resistenza da 0,2 ohm che era quella che mi interessava di più perché volevo sentire se da 0,2 ohm andava a scaldare troppo e perdere aroma no non lo fa è buonissimo io lo sto utilizzando a 45 watt che è il minimo a cui deve essere utilizzata questa resistenza qua e vi consiglio di utilizzarla così perché rende da paura ha un aroma che è iper cremoso vi fa sentire molto il dolce dei liquidi e soprattutto la miscela aria, vapore e temperatura secondo me è perfettamente calibrata utilizzandola a 45 watt ovvero al minimo consigliato da loro fa una mole di vapore che è impressionante ha una spinta che è proprio iper reattiva cioè basta proprio è incredibile come cliccate spara subito non ha lag, non ha lag è come se avesse il bang nostra già carica è come voi tirate e spara a vapore la durata della batteria se calcoliamo che stiamo svappando a 45 watt ho fatto un casino di vapore che non si vede più niente dura tantissimo cioè la batteria dura veramente tanto e si ricarica in fretta diciamo che con una mezz'oretta 30-35 minuti siete al pieno della carica ma è gestita molto bene la batteria questo chip la gestisce molto bene anche perché dopo 4-5 secondi che voi non la usate il display diventa scuro quindi tipo risparmio energetico nel telefono ed è una funzione che è molto interessante il design a me piace da matti è veramente bella si vede il liquido il liquido si vede quindi non è come tutte quante le pod mode che nel 90% dei casi dovete aprire per vedere quanta capienza è rimasto e secondo me sono riusciti a fare un design cioè ragazzi veramente stupenda un design veramente stupendo tenendo tutte quante le cose utili montate cioè ha un chip un circuito che funziona in una maniera egregia perché la geni lo sto utilizzando sempre cioè per dire io la geni lo uso tutti i giorni ed è un circuito che secondo me funziona da dio dopo il DNA e poco altro è uno dei circuiti anzi non lo metto alla pari del DNA ma subito sotto il DNA è il miglior circuito che io ho usato ultimamente è piccola perché è veramente piccola cioè sparisce dentro la mia mano esteticamente è bellissima 2000 mAh di batteria integrata che è una follia se calcoliamo queste dimensioni qui 80W pod mode resistenza con un aroma incredibile è un prodotto che veramente mi piace mi piace straconsigliato magari fra un po' di giorni quando uscirà qualche altra recensione andatevela a vedere ma secondo me tutti quanti rimarranno ipersoddisfatti di questo prodotto è veramente buonissimo c'è ti vien da dire che non è neanche una pod mode sembra di svappare con quando io usavo il TFV8 no? però l'aroma secondo me è migliore del TFV8 sembra di svappare quasi con un profile l'aroma è quasi quello di un profile ovviamente abbiamo meno vapore perché non è un profile è un'altra cosa sono testine prefatte però l'aroma veramente ragazzi è qualcosa di incredibile veramente ottimo ha fatto delle resistenze spettacolari cioè è come svappare con una mod seria però fatta pod mode fine non mi dilungo non dico altro perché sarei ripetitivo pienamente promosso bravissimo e vaporezzo grazie che mi avete mandato questo prodotto in anteprima sono veramente fierissimo di questo anche perché funziona da dio cioè questo qui lo svapperò anzi mandatemi altre resistenze e mandatemi anche la versione che uscirà per il pubblico così ne ho due da usare una io e una Sara grazie mille detto questo ragazzi vi saluto vi invito a iscrivervi al canale condividete il video mettete mi piace al video se vi è piaciuto andate a vedere questo prodotto sul sito Vaporezzo io vi saluto noi ci vediamo anche domani sera con il video best 2019 dove farò due o tre chiacchiere con voi e vi farò vedere quali prodotti che ho recensito quest'anno mi sono piaciuti di più non mi resta che augurarvi un buon santo Stefano e sfondatevi anche stasera se avete ancora il fisico e noi ci vediamo domani sera ciao 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 Ah, 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 ah.